Gentili telespettatori, buona giornata, pronta la legge che viene chiamata erroneamente, la legge sul premierato, che in realtà è poco più di un'elezione diretta del capo del governo. Perché dico poco più? In realtà è solo l'elezione diretta del capo del governo, però l'elezione diretta del capo del governo cosa fa? Fa sì che il Presidente della Repubblica non potrà dire ai partiti, allora portatemi qui un nome come Presidente del Consiglio, ma il Presidente della Repubblica dovrà dire ha vinto la destra, ha vinto la sinistra, questo è il loro candidato che ha preso più voti, questo è il Presidente del Consiglio che deve essere nominato. Non ci potrà essere più un Presidente del Consiglio, cioè un Presidente della Repubblica che dice no Salvini non fa il premier perché ho deciso di no. Se Salvini sarà per esempio quello più indicato nel centrodestra per fare il premier, il capo dello Stato non potrà più opporsi. Ecco, quindi potranno nascere governi con un premier come Salvini perché l'elettorato lo ha indicato, quindi andrà a limitare in un certo senso come conseguenza i poteri anche del Presidente della Repubblica. Il decreto legge è pronto, in discussione in Commissioni Affari Costituzionali del Senato, ieri è arrivata la conferma di un accordo all'unanimità tra le forze della maggioranza per le ultime modifiche che saranno sottoposti ai capi politici. Quindi il secondo premier potrà subentrare al primo solo dopo morte o dimissioni e arriva il limite dei due mandati. Cambia il semestre bianco indispensabile se si richiede lo scioglimento delle Camere. Quindi due mandati e basta, un capo del governo può fare massimo dieci anni e poi per forza non potrà più essere premier. Altro che il premier a vita come sognano e sperano quelli di sinistra che la destra possa proporre. Quindi questa è una riforma costituzionale sul chiamato premierato che in realtà non lo è. E' arrivata la conferma, l'accordo. Il presidente della Commissione Balboni di Fratelli d'Italia dice La nostra proposta sarà ora sottoposta ai leader e quando approvata sarà depositata come emendamenti. Servirà quindi un vertice tra i capi del centrodestra che non sarebbe ancora in agenda per dirimere le ultime controversie sul tema così da presentare emendamenti comuni entro il termine fissato di lunedì prossimo. Nell'ultima riunione la Lega avrebbe sollevato ancora obiezioni su un paio di punti. Intanto il 12 lunedì è fissato il termine di maggioranza per gli emendamenti. E poi la premier, la Meloni sabato sarà in Giappone. Se Salvini non desse subito il proprio via libera o anche solo facesse slittare il vertice tra i leader dicono in Fratelli d'Italia obbligherebbe a far slittare anche il termine per gli emendamenti. Niente di problematico anche se potrebbe rappresentare un segno di debolezza che non gioverebbe all'immagine della premier. Ma sono tutte cose che non c'entrano nulla. Però su questa riforma e sui punti del centrodestra tutti convergono. La fiducia poi va chiesta al Parlamento così da dare un peso ai partiti della coalizione. Si è anche convenuto che ci possa essere un secondo presidente del Consiglio espresso dalla coalizione vincitrice delle elezioni in caso di morte impedimento permanente, decadenza o dimissioni volontarie del premier eletto. La logica è quella di una staffetta ma non in uno scenario di rottura della coalizione. Altra questione meno problematica è il limite dei due mandati per il premier eletto su cui la Lega frena anche in vista della richiesta del terzo mandato per i governatori. Visto che le opposizioni presenteranno emendamenti su tale punto si ragiona nel partito di Salvini si può anche rinviare la decisione. Potrebbe cambiare anche il cosiddetto semestre bianco. Sapete che non si può votare alle elezioni politiche quando mancano meno di sei mesi all'elezione del Presidente della Repubblica. La bozza tocca anche l'articolo 88 della Costituzione che disciplina lo scioglimento anticipato delle Camere. L'attuale dice che il Capo dello Stato non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato salvo essi coincidano in tutto in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. La nuova versione, quella modificata, questa facoltà gli viene accordata per evitare che un'eventuale richiesta del Presidente del Consiglio di scioglimento venga stoppata dall'attuale normativa che vieta al Presidente della Repubblica nell'ultimo semestre del suo mandato di procedere a un'operazione di questo tipo. Le altre novità quali sono? Allora, il Premier non lo potrà fare più di due volte. I senatori a vite speriscono. Con loro una prerogativa del Capo dello Stato che oggi li nomina. Quelli attualmente in carica concludono il loro mandato. tetto a due mandati quindi il Premier eletto per cinque anni potrà farne solo due. Il premio elettorale sparisce la soglia che garantiva il 55% dei seggi in ciascuna Camera inizialmente previsto. Al suo posto un generico premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi. Revoca dei ministri il Premier può proporre non solo la nomina ma anche la revoca dei ministri che formalmente verrà fatta dal Quirinale. Quindi propone e poi il Capo dello Stato licenzia, diciamo così. Rapporto Premier-coalizione la fiducia che il Parlamento deve dare al Governo va espressa a tutta la squadra non al Presidente del Consiglio e si controbilancia così il suo ruolo lasciando ai partiti alleati un potere contrattuale nella formazione dell'esecutivo. Per quanto riguarda il secondo Premier per evitare ribaltoni e cose di questo tipo si passa il testimone al Premier di scorta solo in casi eccezionali come morte impedimento grave dimissioni o decadenza Bene queste sono le principali modifiche poi c'è quella del semestre bianco che vi ho raccontato prima la facoltà del Capo dello Stato di sciogliere le camere anche nel periodo del semestre bianco e ciò per evitare che un'eventuale richiesta del Presidente del Consiglio di scioglimento venga stoppata dall'attuale normativa che vieta al Presidente della Repubblica nell'ultimo semestre del suo mandato di procedere a un'operazione di questo tipo bene questa è la riforma del cosiddetto premierato soft ecco l'elezione del Capo del Governo con le sue relative modifiche intorno grazie a tutti per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie grazie grazie